Partecipo anche io al Heist Bucket Challenge per sensibilizzare riguardo la SLAM con questo secchio bacinella d'acqua gelata nel tuo tempo gli acciotti sono scongelati, sotti anzi, ma io come programmatore non sono molto a mio agio con l'acqua perché non ho nessun materiale tecnologico a parte la maiglietta che mi sono deciso di metterla a tema per ringraziare Gaetano Abba de Marte mi ha pregato, quindi rilancio la sfida a Riccardo Barrovani, Eugenio Perullà e Marco Perrucci, oddio, che merda!